Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Eros Ramazzotti, ecco chi sarebbe la nuova fidanzata più giovane di lui di 18 anni. Il cantante 59enne, in occasione del compleanno della donna, è uscito allo scoperto. Non è straniera, ma italianissima, una famosa modella Kirby. Eros Ramazzotti è innamorato, lo aveva detto chiaramente nelle sue ultime interviste. In occasione del compleanno della donna che gli ha fatto battere nuovamente il cuore, il 59enne ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto, e ha pubblicato una foto in cui bacia la fidanzata. Auguri amore mio, ha scritto, ma senza taggarla nel post condiviso nelle IG storie. Così è immediatamente partita la caccia a Lady X, che ora avrebbe un nome e cognome. Giulia, originaria di Marsala, in Sicilia, è una famosa modella Kirby, tra le più richieste. Sensuale e bellissima, nel 2021, ha pubblicato un libro dal titolo Il potere dell'imperfezione, dove si racconta e rivela le difficoltà incontrate, anche a causa dei disturbi alimentari di cui ha sofferto, e in cui invita tutti a reagire alle avversità. Giulia ha imparato sulla sua pelle a non non dare credito a chi attacca senza alcuno scrupolo e pietà. Ora per lei, oltre alla stabilità emotiva, sarebbe arrivata anche quella sentimentale, grazie a Eros. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel like, per noi è molto importante. Grazie e arrivederci al prossimo video.